Buonasera a tutti! Cominciamo a presentare i musicisti del parco, è un trucco per fare un sound check veloce. Abbiamo la chitarra Silvana Pauli che adesso vi faccia dire, tre notti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Ok, Giovanni come andiamo con i suoni? Bisogna alzare la tastiera e dire andati un po'. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Allora cominciamo con un pezzo che si chiama Gibson Chapon, cos'è che puoi sentire? Ripresentarti! Ripresentarti! Manca in basso la batteria! Ma non ho presentato la batteria! Adesso cominciamo con un pezzo di batteria! Alla batteria il grande Dario Rizzoli! E adesso il grandissimo Pizzo Chapon. Il masso mi appello! Alla batteria il grande Dario Rizzoli! Dario Rizzoli! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.